Uomini e donne oggi, esterna deludente per Alex Migliorini Oggi uomini e donne, Mattia e Vittoria ancora sotto accusa. Oggi a uomini e donne va nuovamente in onda il trono classico. Dopo aver visto l'esterna di Angela con Mattia e Paolo e quella di quest'ultimo con Esther, si passa a Vittoria. . La corteggiatrice si è dichiarata per Marciano e le ha organizzato una dolce sorpresa. La ragazza ha portato la colazione in hotel al cronista. I due chiacchierano e lei rivela la sua opinione sulle rivali. Una volta in studio, Niloufar prende la parola. La donna è ancora convinta che tra il tronista e l'adeganello ci sia dietro una conoscenza pregressa. Anche Crivellini e altre corteggiatrici la pensano come lei. In ogni caso, Maria cerca di spiegare che Mattia non poteva sapere della presenza di Vittoria poiché lei era una delle papabili nuove troniste. Dopo l'uscita con Vittoria, si manda in onda l'esterna con Niloufar. La giovane parla un po' di se stessa e delle sue origini italiane e iraniane. Alla fine, si trovano a parlare anche della Deganello. In puntata, la corteggiatrice rivela di essersi trovata bene e di imbarazzarsi molto davanti al contatto fisico con Marciano. Per Paolo Crivellini c'è una nuova ragazza, Jessica. Lei è un'ex tentatrice dell'ultima edizione di Temptation Island. I due sono usciti insieme, hanno fatto una sessione di e si sono conosciuti un po' meglio. Si passa poi all'esterne di Alex Migliorini e i suoi corteggiatori Claudio e Alessandro. Trono gay uomini e donne, Alex coll'amaro in bocca. Alex e Alessandro hanno trascorso la loro mezz'ora insieme nell'azienda vinicola del corteggiatore. I due hanno parlato un po' e Alessandro ha confidato al tronista di averlo pensato molto negli ultimi giorni. In ogni caso, Migliorini rivela di non fidarsi del ragazzo e di essere ancora molto diffidente nei suoi confronti. Claudio non ha organizzato niente speciale. I due hanno cercato di confrontarsi e il corteggiatore gli ha raccontato i dettagli del suo passato e della sua famiglia. In studio, Alex rivela che prima dell'uscita non vedeva l'ora di vedere il corteggiatore, ma poi se n'è andato con l'amaro in bocca e anche un po' deluso. Iscriviti al canale